Il paziente è un caso bello, si vede c'è anche pazienti che colore dei denti viene scuro, tutti hanno visto questo, questo si chiama florosa, non so come si chiama in Italia, ma quando il bimbo da un anno al tre anni beve molta acqua con floro, loro prendono questo. Ma le scuole elementari in Italia davano le pastiche di floro ai bambini, adesso sono di età, perché dice che fanno male? Il floro deve, quando è tanto, tanto fa male, ma quando è in dose normale è buono, quando non c'è, non è bene, grande male, si. E come si può sapere il floro che abbiamo, che hanno i bambini? Deve guardare quello che mangia, quello che beve e che mangia. Prende l'analisi di quello che mangia e beve, si inizia tutta l'acqua, perché in tutto il cibo che noi facciamo mettiamo l'acqua, diciamo, per forza. E anche si beve tanta acqua. Noi puoi prendere tutti gli alimenti che si fanno. Noi puoi prendere tutti gli alimenti che si fanno mettere 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 tutti gli alimenti che